Ho provato a fare un esperimento. Bene, trovata. Prendila tu, prendila. Ora ne hai una, è tua, ok? Ascolta, Alex. Alex, se saremo costretti a dividerci o se la candela si spegnerà e non la riaccenderai entro dieci secondi, esattamente dieci secondi, dovrai subito disegnare un cerchio di sale intorno a te e restare in quel cerchio finché non la riaccenderai, chiaro? Altrimenti... Non ti serve la mia risposta. Che esperimento hai fatto? Ho spento la mia candela.